Almeno 75 mila euro entro il primo maggio, più altri stanziamenti che verranno definiti dagli uffici del personale e della manutenzione del comune di Arezzo. Sono questi i contenuti del documento presentato dall'amministrazione ai dipendenti della Polizia Municipale per revocare lo sciopero indetto per il 17 marzo prossimo, quando farà tappa ad Arezzo la corsa ciclistica della Tirreno Adriatico. Una giornata molto impegnativa per tutto il comune, in particolare per il personale della Polizia Municipale. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sede infestata dai topi nonostante una derattizzazione, estintori fuori servizio, carenze negli apparati radio e nella copertura del segnale, mezzi insufficienti o non adeguati alle necessità. Ma queste sono solo alcune delle denunce del personale della Polizia Municipale. Cuore della protesta sono le questioni salariali legate al pagamento del lavoro nei giorni festivi infrasettimanali, che ancora in parte sarebbero da pagare. Mentre viene denunciato uno squilibrio di 6 a 1 negli stipendi tra quelli delle posizioni apicali e quelle dei dipendenti. L'incontro tra parti sociali e amministrazione è durato oltre due ore, ma non tutte le sigle sindacali vi hanno preso parte. Il pacchetto di interventi presentato dall'amministrazione è stato percepito solo come un primo doveroso passo verso la risoluzione della vertenza. Per ora lo sciopero è confermato, ma mercoledì 12 marzo la parola passerà direttamente ai lavoratori che nella loro assemblea decideranno il da farsi.